Oh ragazzi bentornati sul canale di Enzo Che è successo? Ho fatto la reaction a coso? A Tony F? Anzi andatevela a vedere se non ve la siete viste Ho fatto la reaction a Tony F a Boss, il nuovo singolo che è uscito Mi ha chiamato Anna, tutta ingrazzata Ma come mai? Come mai? Come mai? Ma come mai? Ho fatto la reaction a Tony e me? Calma Anna, calma Calma, la facciamo subito Non sei seconda a nessuno Non sei seconda a nessuno Anna Per te questo ed altro E' uscito il suo singolo Hanorgy Hanorgy Drink Che ho sentito lo spoiler Mi piace Anna secondo me sta tracciando Sta tracciando Un percorso fantastico per me ragazzi Siamo partiti tutti prevenuti con Bendo Che poi a me non piaceva pure Bendo Siamo partiti tutti prevenuti Invece questa sta spaccando le pacche a tutti Vai Energy di Anna Vai partiamo subito Prodotto da Miles Picchia raga è inutile Picchia raga e noi che stiamo facendo Che stiamo a dire? Di che stiamo a parlare? E' forte C'ha un bel flow Bella voce Sa cantare pure Sponsor del giorno acqua dell'emd Bella Sto morendo Oh fermati Fermati Fermi tutti Fermi tutti Sto more Ehm Vabbè ragazzi E Anna per me Giusto Così Ehm Miles Ehm Ehm Vi mando un bacio Ciao Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Ciao